Ciao a tutti e bentornati in un nuovo appuntamento di unboxing Era da un po' che non ci vedevamo per gli unboxing ma solo per i gameplay, vabbè Oggi siamo qui con un unboxing di una cosa che è arrivata dopo mille anni quasi Ed è questa, che cos'è? Adesso ve la mostro Come potete vedere sembra una normale chiave di casa Ma non è così Come potete vedere è un coltellino Allora, la lama sembra in acciaio, non so di che tipo di acciaio Non sarà di gran qualità, è stata presa su ebay a 80 centesimi Ovviamente spedizione da oriente Questo qui è normale ferro brunito sembra, tipo, comunque verniciato di nero opaco, facciamo così, verniciato di nero opaco E la lama non è rimovibile perché è, come potete vedere, rivettata Molto piccolo, comodo e pratico Potete portarlo con voi sempre perché comunque la lama non è molto grande Ed è molto utile se dovete fare piccoli lavoretti Non so, anche per sbucciarvi, non so, alla frutta quando mangiate così, se fate lo spuntino Se dovete tagliare dei piccoli cavi, fili, nell'orto Molto pratica e utile Come tutte le piccole lame che presento sempre Questa qui può offendere come una qualunque penna o un qualunque coltello da usare in casa Quindi maneggiatela con cura e con attenzione Ovviamente quando vi arriva a casa Presenta solo la punta ma il filo della lama è da fare Esistono vari colori e le dimensioni sono tutte uguali Ringrazio per la visione E ci vediamo in un altro fantastico video Ciao a tutti Grazie